Buongiorno, sono il dottor Andrea Fratter, sono stato invitato dalla QTIS del Cosmopharma per parlare di falsi miti in ambito cosmetico. Io sono un ricercatore in ambito cosmetologico e nutraceutico e ho portato il mio contributo al Cosmopharma per far comprendere quali meccanismi sottengano la reale efficacia dei prodotti cosmetici. Molte aziende impostano le proprie campagne di marketing su frasi accattivanti, su messaggi croccanti e molto spesso però non sono suffragati da altre tante evidenze scientifiche. Lo scopo del mio intervento è quello di solleticare l'attenzione dei dermatologi e dei farmacisti per meglio comprendere le reali aspettative di efficacia di questi prodotti.